L'accoglienza familiare è una delle forme di accoglienza importanti, l'importante è che queste accoglienze familiari siano comunque coordinate dai servizi sociali, nel caso di minori dal tribunale minorile, perché ovviamente si deve evitare qualsiasi rischio di delinquenza e parliamo anche con parole molto forti di tratta. Io credo che il rischio di tratta sia uno dei rischi forti che noi abbiamo, l'Italia è in prima linea anche con gli strumenti che abbiamo, abbiamo già attivato il tavolo antitratta proprio per evitare che questo accada. La ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti mette in guardia contro il pericolo che potrebbe nascondersi dietro l'arrivo di minori dall'Ucraina, spesso non accompagnati o accompagnati da persone diverse dai genitori. Lo fa in occasione di quello che lei stessa chiama un modello di accoglienza da replicare in altre parti d'Italia, l'Istituto degli Innocenti di Firenze, dove si trovano 21 minori provenienti da una casa famiglia vicino Kiev. In Toscana al momento sono registrati 6.321 ucraini, 2.500 sono minori. Per loro sono già attivi i percorsi di inserimento, integrazione a scuola, a Firenze i servizi mensa e simili sono gratuiti per loro. Per quanto riguarda i minori non accompagnati, è ancora presto per definire il percorso che li attende, molto dipenderà dalla durata della guerra e sarà comunque il Tribunale dei minori a decidere, seguendo un complesso ITER a partire dalla verifica della loro situazione in Ucraina. Il Comune di Firenze si sta però preparando per far sì che nel momento in cui dovessero partire i percorsi di affido sia tutto pronto. Abbiamo già chiaramente un numero importante di famiglie affidatarie, considerate che nelle ultime settimane ci sono arrivate 70 richieste di famiglie che volevano iniziare il percorso dell'affido, 28 di queste hanno già iniziato il percorso informativo e altre 24 lo iniziano ora al 31. Tante famiglie italiane.